Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fragheto 8, Fano. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo. Puntata numero 13 di questa seconda stagione, anche la 31esima in totale. Davvero i problemi all'alma non finiscono mai di oggi. La notizia che il presidente Mario Russo si è dimesso dall'incarico. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore. Dal punto di vista della proprietà però cambia poco. La società resta in mano fino a prova contraria, d'accordo con nuovi eventuali acquirenti. Allo stesso Russo che detiene personalmente il 51% delle quote, mentre il restante 49% è in mano ad una società di cui è amministratore. Il presidente Russo che ha annunciato questa decisione poche ore dopo l'ennesimo attrito con la tifoseria che è rimasta fuori dallo stadio domenica scorsa in occasione della sfida con il Fossombrone di seguito alla decisione dello stesso Russo di raddoppiare i prezzi di curva e settore ospiti in occasione della giornata Granata, rapporto che peraltro è da tempo deteriorato con la tifoseria Granata che anche in occasione della gara di domenica, nonostante abbia seguito la partita fuori dal perimetro dello stadio ha esposto uno striscione di contestazione nei confronti dello stesso Russo come anche dell'amministrazione comunale chiamata a prendere una posizione diversa rispetto alla gestione attuale del club Granata. venendo alle questioni di campo che in questo caso non diventino secondarie ma quasi domenica si è assistita ad una partita che ha fotografato il momento attuale della squadra Granata depotenziata dal mercato, se n'è andata la punta di riferimento, Tenkorang che sta vivendo tra l'altro un periodo magico, Alma che praticamente non ha costruito nulla in attacco badando a non concedere nulla ad un Fossombrone che peraltro ha il suo punto di forza nella tenuta difensiva che in attacco lamenta invece problemi. In pratica una sola palla goal nei 96 minuti e passa quella che il Fossombrone, vedremo tra poco, ha costruito nel corso della ripresa con Casolla che però ha trovato l'opposizione di Guerrieri. Per quello che riguarda invece la classifica e i risultati di quest'ultima tornata mentre proprio adesso vediamo questa conclusione di Casolla che ha rappresentato l'unico sussulto prima i risultati forse il caso con lo 0-0 fra Alma, Juventus Fano e Fossombrone nel contesto di una domenica che lì in coda non ha fatto registrare variazioni di sorta hanno pareggiato quasi tutti a parte il Soria che ha superato nello scontro diretto il vasto Girardi in vetta invece prova ad allungare il Campobasso, vittorioso sul Matese per 2-0 come vediamo dalla gradatoria, più 5 ora su Samerettese e l'Aquila che hanno pareggiato raggiunte dall'Avezzano che ha invece travolto il Real Monterotondo. Dell'alma di oggi, dell'alma di un po' di tempo fa ma di tanto altro e anche a ben altri livelli parleremo con Davide Ciccio Falcioni. Buonasera e benvenuto. Ciao Andrea e buonasera a tutti. Allora, ti abbiamo rivisto in tribuna al Mancini in occasione della partita con l'Avezzano che tra l'altro ha segnato forse il picco più alto della stagione delle performance Granata una prestazione comunque vigorosa, un risultato rotondo forse in quella circostanza hai detto ma in fondo quest'alma non è poi così male e magari in fondo sana e salva ci arriverà. Ma infatti, guarda, proprio prima di Natale sono sceso a Fano vivendo io adesso a Milano e con i miei amici andiamo allo stadio a vedere il Fano e devo dire che in quell'occasione tutti mi hanno detto che era un Fano in difficoltà invece ho visto una squadra ben messa in campo da Giovanni, Cornacchini ho visto un Fano volenteroso, un Fano che aveva proprio voglia di portare a casa il risultato e infatti poi alla fine è venuto fuori un bel risultato se non erro di 3-1 quindi ho visto un buon Fano. Tu mi insegni però che non ci può essere una squadra all'altezza della situazione senza che ci sia una società alle spalle all'altezza della situazione e nel caso dell'alma, al di là del fatto che Russo abbia sempre ottemperato agli impegni la situazione come testimoniano i fatti di queste ultime ore è sicuramente disagevole. Sicuramente, non ci può essere una squadra forte senza una società molto forte alle spalle la società è la prima cosa in assoluto. Adesso appena ho avuto questa notizia da te del fatto che Russo vuole fare un passo indietro io spero che il Presidente ci ripensa magari nella nottata perché il Fano in questo momento comunque ha bisogno del Presidente, ha bisogno della società per poi eventualmente se vuole prendere una decisione di mollare e cedere il timone di aspettare perlomeno la fine dell'anno. Questa è la cosa che mi auguro per la società e per il Fano Calcio. Hai vissuto, anche se negli ultimi tempi non direttamente la parabola del calcio fanese è purtroppo uno degli elementi distintivi e che si fa un'enorme fatica da sempre e anche quando il calcio dal punto di vista finanziario non poneva tutti questi problemi a individuare qualche personaggio locale che possa dare continuità a questa avventura e magari aprire delle prospettive diverse. Sì, diciamo che Fano comunque è una città, è una realtà sportiva è sempre stata importante da tantissimi anni a questa parte è un peccato che non ci sia effettivamente qualche imprenditore fanese che abbia voglia di rilevare la società per poi però affidarsi anche a persone professioniste del calcio che secondo me nella città di Fano di figure ce ne sono non ultima anche come allenatore lo vediamo oggi Giovanni Cornarchini ad esempio è la figura perfetta per una città come Fano per il passato calcistico che ha come guida tecnica poi ci vorrebbe che un imprenditore fanese oltre all'aspetto tecnico anche sotto l'aspetto della costruzione di una squadra si possa affidare a qualche figura importante che ha masticato calcio negli anni su una città come Fano e che secondo me delle figure ci sono senza fare nomi ma figure ci sono. Di base ci vuole la passione, servono anche però i soldi perché anche in Serie D e anche per un campionato semplicemente dignitoso ci vogliono centinaia di migliaia di euro. Servono soldi però magari ecco qualche imprenditore ripeto importante fanese che anziché avere magari la passione per lasciarmi passare per lo yacht e andare in giro sul cari mari magari ha questa passione da mettere nel calcio e comunque far crescere anche la città perché comunque una società di calcio che se ne dica se riesce a fare dei campionati di certi livelli la stessa città secondo me ne trae dei benefici. I tuoi esordi però nel calcio e con la maglia dell'alma all'interno di una realtà che era guidata da fanesi anche se si trattava di una formazione piuttosto composita fatta anche di imprenditori che con il calcio non avevano tutta questa familiarità. No assolutamente no anzi però erano stati bravi secondo me ripeto ad affidare la guida tecnica a persone che venivano dal mondo del calcio che tenevano alla società e quindi erano imprenditori che si vedevano il sabato mattina principalmente al campo perché durante la settimana avevano a che fare con le proprie aziende però era un calcio anche da altri tempi si può dire come ne parlavamo prima era anche un calcio dove c'era anche la possibilità se riesci di fare più business rispetto a oggi sicuramente. Oggi in effetti la sicurezza è quella di tirar fuori dei soldi poi bisogna quantificare la misura dell'esborso. Passiamo dall'attualità di quest'alma all'alma del passato ma soprattutto alla storia di Davide Ciccio Falcioni che prende le mosse dall'alma quella squadra allievi che disputò il campionato nazionale contro la Roma di Totti la Lazio di Neste di Vaio se non ricordo male e lo sbarco in prima squadra poi un momento, ricordo un'estate in cui credo ci incontrammo al mercatino organizzato da Pro di Sport in cui stavi valutando la possibilità di scendere nel campionato di eccellenza o giù di lì c'era qualche proposta poi cosa è successo in quell'estate? Allora, è stato infatti è una cosa che ricordo ancora molto chiaramente e ai tempi non mi aveva lasciato proprio anzi mi aveva anche un po' turbato perché io venivo da tre anni se ben ricordi poi tu hai visto la mia nascita calcistica si può dire di tre anni di Serie C se ricordi il mio esordio a Fano in C2 con Alessandrini che ancora forse non ero neanche maggiorenne per poi passare a Cavasin e Donati dove io ho fatto tre anni dove ho fatto il secondo portiere lì c'è stato un passaggio societario dove arrivò Navarra e allo stesso tempo arrivò il direttore sportivo Garlini che a fine stagione mi chiamò Garlini e mi disse secondo noi non sei pronto per la Serie C ti vorremmo mandare a giocare a queste squadre di paese Lucrezia, Calcinelli e Vedicene e io al che lì dissi ma scusami sono tre anni che sono in questa città non l'ho mai giocato se no non ha partita come si fa a dire che non sono pronto ma secondo noi è così comunque la mia risposta è stata in questi paesi a giocare non ci vado al che il mio procuratore con tutto il rispetto per queste realtà con tutto il rispetto naturalmente però avendo fatto tre anni dove professionale non me la sentivo Franco Baldini mio procuratore mi dice Davide c'è la possibilità di andare in Serie C a Dolbia sappi che vai là è un'avventura non so se giocherai neanche là però io convinto dei miei mezzi convinto delle mie potenzialità ho deciso di andare a Dolbia e lì è stata la mia svolta perché feci un anno incredibile e addirittura e siccome un po' di fortuna ci vuole sempre ci furono anche circostanze favorevoli perché credo ci fosse stato l'infortunio del portiere designato come titolare no in realtà no in realtà il portiere titolare arrivava da un campionato di primavera campione d'Italia però a inizio campionato aveva avuto qualche problema tecnico il mister la prima giornata di campionato mi chiamò in hotel e mi disse Davide oggi visto che non ti ho mai fatto giocare nel precampionato ti faccio giocare la prima di campionato parai subito un rigore la seconda di campionato ne parai un altro e da lì già alla quarta di campionato cominciarono a seguirmi Milan, Inter, Juve e via dicendomi e ho fatto 33-34 partite e la cosa incredibile è stata che alla fine dell'anno vinse addirittura il miglior calciatore della serie C dei tempi cioè di tutti della C1 girone A girone B al di là del ruolo al di là non del portiere quindi del calciatore e quindi lì c'era qualcosa che non andava rispetto all'anno prima cioè o ero non ero troppo scarso magari all'anno prima magari come non ero un fenomeno l'anno dopo però diciamo che quella mia scelta fu sicuramente azzeccata ti seguì anche la Juventus ma la Juventus non si limitò a seguirti ma ti chiamò esatto lì eravamo maggio il presidente dell'Olbia mi chiamò in sede mi disse Davide ti devo parlare urgente vieni in sede io sono andato in sede e mi disse guarda ti devo vendere bene mi disse guarda ho la Juventus o il Milan guarda mi stai prendendo in giro no no devi decidere tu Juventus o il Milan il presidente stiamo parlando del massimo del calcio a terra comunque bene ok a casa però gli dissi però pensandoci bene essendo io juventino e a casa mia tutti juventini vorrei andare alla Juventus e quindi da lì la scelta di andare alla Juve e alla Juventus arrivi e vediamo qua una foto insieme a personaggi mica da ridere accanto a Lippi vediamo anche Boxic Amoruso Giuliano Bobovieri e Montero sì questa è una foto a cui tengo molto perché è stato il primo giorno di riaduno con la Juventus e se non ricordo male eravamo a Châtillon e i nuovi arrivati di quella stagione facemmo questa foto davanti il pulma insieme a Mr. Lippi fu molto emozionante molto bello e tra l'altro con diversi di questi compagni è poi legato in maniera particolare ma diciamo che con questi che si vedono nella foto al di là di Alan Boxic che magari vivendo all'estero con gli altri mi ci vedo ancora oggi a distanza di oltre 20 anni regolarmente con Nicola Moruso con Marco Juliano con lo stesso Bobo Vieri a Milano ci vediamo spesso Paolo Montero un po' meno però ci sentiamo mi è capito di vederlo qualche volta a Milano in qualche nostra riunione di pranzi che sensazioni al momento del tuo arrivo alla Juve ma allora la verità è incredibile perché perché come ti ho già detto prima nella mia famiglia siamo tutti juventini io ricordo mio papà e mio fratello che mi portavano ad Ascoli a vedere la Juventus o quando il Cesena era in Serie A quindi quando sono arrivato a Juventus ritrovarmi nel pullman insieme a tutti questi grandi campioni che l'anno prima tra l'altro avevano vinto la Champions League a Roma con l'Ajax quindi Del Piero Conte Zidane Boxic Torricelli o Ferrara insomma ogni tanto dovevo darmi qualche pizzicotto per capire se era possibile perché siamo passati da un pensare di andare nei dilettanti l'anno prima a finire nella Juventus campione d'Europa l'anno dopo insomma il passaggio è stato abbastanza scioccante e forte una stagione tra l'altro estremamente proficua Scudetto Supercoppa Europea Coppa Intercontinentale a Tokyo e purtroppo anche lì perdemmo l'ennesima Champions League in finale col Borussia Dortmund e abbiamo parlato della Coppa Intercontinentale allora riviviamo quei momenti tu eri a bordo campo ero in panchina appunto Alex Del Piero mentre qui vediamo però prima di passare all'Intercontinentale il tuo esordio in Serie A al termine di quella stagione tra l'altro circostanza estremamente singolare esordio in coppia di Fanesi con Cingolani esatto qui era l'ultima di campionato Juve Lazio Juve Lazio dove Mr. Lippi ha voluto un po' premiare noi giovani che quell'anno comunque in allenamento nello spogliatoio eravamo sempre pronti a dare una mano e quindi darci la possibilità anche noi di diventare campioni d'Italia esordendo l'ultima di campionato come si vede dall'immagine contro la Lazio anche qui è stata una situazione molto emozionante perché comunque ci sono allo stadio mi ricordo che era tutto esaurito quindi 80.000 spettatori si celebrava lo scudetto si celebrava lo scudetto quindi è stata una giornata memorabile spesso chi sbarca in una realtà così di alto livello viene colpito dal fatto che di presunzione non ci sia nemmeno l'odore è stato così anche nel tuo caso ti sei ritrovato in un ambiente che non credevi trovare nel senso che magari potevi supporre che avresti avuto a che fare con personaggi che con la carriera che avevano già avuto viaggiavano insomma su altri livelli ma è così effettivamente è proprio così io dico sempre che più si sale di categoria e più trovi gente umile gente disponibile ad aiutarti io devo ammettere che quell'anno da Del Piero che già era un giocatore affermato o Ciro Ferrara a Giuliano e Montero che erano appena arrivati era un gruppo eccezionale che mai nessuno si permetteva di far sentire la propria come dire personalità perché era già un giocatore affermato quindi ed è stata anche secondo me la forza di quel grande gruppo e lo dimostra il fatto che oggi sono passati più di vent'anni e ancora oggi ci ritroviamo e facciamo delle cene insieme qui Protti ti dà un dispiacere al tuo esordio e vabbè si può tollerare in quella giornata lì era già l'esordio maglie larghe esatto l'esordio con la Juventus la squadra del cuore esordire già il sogno di ogni ragazzo è arrivare in Serie A quindi quello è un massimo più farlo nella squadra del cuore già per me andava già bene così andava è con tuo intervento in uscita successivamente all'episodio del gol diciamo della Coppa Intercontinentale eri a bordo campo quando Del Piero infilò il pallone sotto l'incrocio regalando questa soddisfazione enorme alla squadra e ai suoi tifosi vediamo anche in questo caso l'immagine sì qua eravamo a Tokyo ricordo ancora questa partita che partimmo addirittura dieci giorni prima per ambientarci un po' anche al fuso orario è stato bellissimo perché poi ho un ricordo della Coppa Intercontinentale quella di Platini dell'anno 85 dove c'era questa trombetta che si sentiva sempre in televisione quindi anche quella viverla da da bordo campo è stato quasi un sogno anche perché ricordiamoci che è l'ultima partita che la Juventus ha fatto nella Coppa Intercontinentale perché dopo di quella non c'è più stata la possibilità non avendo più vinto la Champions League esatto non avendo più vinto la Champions League quindi è stata anche quella una serata dove poi diciamo che la mia partita è subentrata alla fine del terzo fischio finale nei festeggiamenti finale con tutti i compagni cui ti sei reso protagonista abbiamo anche alcune immagini alcune foto relative a quel trionfo al di là della premiazione finale forse è il caso di passare appunto a queste foto che ti ritraggono con Del Piero in segno di giubilo con Del Piero e Peruzzi accanto ma anche successivamente il viaggio di ritorno con questa Coppa Intercontinentale accanto ai tuoi amici di sempre in particolare Amoruso Vieri e Giuliano il viaggio appunto di ritorno con Amoruso se non vedo male esatto e dicevi di questo rapporto che non si è interrotto nel corso degli anni prova ne sia che recentemente Bobo Vieri ti ha voluto come ospite alla Bobo TV alla quale ti sei presentato con una sorpresa vediamo anche in questo caso le immagini di questa tua presenza alla Bobo TV cosa ci sarà sotto quel velo ieri forse era al corrente non era al corrente non era al corrente nemmeno Giuliano Amoruso nessuno era al corrente è stata una mia sorpresa siccome ripeto i ragazzi li vedo spesso allora c'è sempre un po' questa sorta di prendersi in giro e soprattutto di prendermi in giro del fatto che io quell'anno non giocando mai ero un po' la mascotte si può dire e quindi loro io ho giocato di qua io ho fatto 30 partite io ne ho fatte 20 però io ho voluto portare questa coppa a coperta per far capire a loro che alla fine nonostante tutto tutti e quattro come trofei vinti nonostante io avessi fatto solo una partita abbiamo tutti solo vinto questa coppa perché poi lo stesso Christian Vieri che ha fatto una carriera pazzesca lo stesso Marco Nicola però come trofei internazionali non hanno più vinto niente quindi diciamo è vero che voi avete 300 partite io ne ho una ma abbiamo vinto tutti la stessa cosa quindi questa è sempre stato un po' per giocare quella serata lì grazie a Davide Ciccio Falcioni grazie Andrea grazie a tutti e per quello che vi riguarda vi aspettiamo fra qualche istante dedichiamoci ora alla pallavolo al campionato di A3 Maschia ad una smart system che con qualche patema d'animo si conferma imbattibile in casa fermazione al quinto set contro Bari annunciata come terz'ultima forza dell'otto ma in realtà capace di una prestazione decisamente sopra le righe che ha costretto appunto la formazione fanese al quinto set in cui la squadra Virtusin ha avuto a disposizione cinque match point ma ci ha voluto il sesto e ha dovuto comunque annullare un match point che gli avversari si erano costruiti smart system che probabilmente ha pagato le fatiche di una settimana estremamente impegnativa mercoledì aveva giocato in Coppa dove a San Giustino aveva letteralmente demolito il tabù trasferta che l'aveva afflitta fino a questo momento vincendo in 3-7 guadagnandosi l'accesso alla Final Four di Coppa Italia in precedenza altra trasferta a Napoli altra vittoria in quel caso al tie-break nel frattempo l'avvicendamento in panchina Vincenzo Mastrangelo ha preso il posto di Paolo Tofoli Smart System che come vediamo dai risultati e dalla classifica è stata capace comunque di aggiungere due punti al proprio rullino di marcia in una giornata in cui non sono mancate le sorprese favorite anche dal fatto che qualche squadra abbia pagato la terza partita in una settimana su tutte palmi sorpresa in casa da Sabaudia che sarà prossimo avversario della Smart System nella gara che si giocherà nel Lazio nelle fine settimana le ultime stanno facendo la voce grossa ha provato a farla anche Napoli che ha messo alla frusta la capolista macerata che comunque si è presa il bottino pieno e continua la propria marcia in vetta alla graduatoria con la Smart System che come vediamo insegue con sette punti di ritardo e affiancata proprio a San Giustino immediatamente a ridosso Lago Negro ha perso un po' di terreno palmi che ha però già scontato il turno di riposo ci sono anche delle partite da recuperare che dovranno dare una conformazione definitiva a questa classifica periodo di compleanni per lo sport fanese è uno tutt'altro che banale l'ha celebrato qualche settimana fa l'Alma Juventus Fano di Calcio A5 che nel frattempo però è diventata anche polisportiva i primi 40 anni di questa realtà sportiva cittadina li ripercorreremo con l'ausilio di Giampiero Patrignani presidente dell'Alma Juventus Fano Calcio A5 e anche uno dei fondatori buonasera e benvenuto buonasera allora quando è nato tutto quanto? è nato la prima partita l'abbiamo giocata il 20 dicembre del 1983 mi ricordo anche la formazione se può servire c'era Di Fino in Porta in Nereo Giovanni Domenichelli giocavo io mio fratello Roberto e Ferrante Rovinelli ed eravate un po' i pionieri del calcio a 5 all'epoca sì io avevo già giocato all'estero e l'unico modo per giocare era poter sfruttare il palazzetto durante il periodo delle vacanze di Natale quando tutte le pallavoliste andavano via e in sette otto giorni noi organizzavamo questo tipo di attività e diventava un evento ribadito poi dopo in estate qualche volta l'abbiamo fatto in estate all'aperto ed è nata come un gruppo di amici che si vedono e vogliono giocare uno dei motivi d'orgoglio dell'Alma Juventus è essere stata una delle prime realtà del calcio a 5 iscritte alla federazione sì noi ci siamo iscritti alla federazione nell'88 e prima abbiamo fatto solo non esisteva la FIGC era federazione italiana a calcetto non mi ricordo di preciso durante quel periodo noi abbiamo realizzato che dovevamo provare a fare i campionati e i campionati erano i primi che facemmo erano praticamente davano diritto a fare le finali scudetto noi giocavamo contro il Baba Grigia e il Baba Grigia è arrivato a terzo nelle finali scudetto che poi erano sempre a Roma erano fasi regionali poi si faceva chi vinceva andava a fare gli spareggi finali e dopodiché è nata la C1 poi C1 C2 D negli anni ed è diventata la nostra la nostra regione la capofila tra di percentuale tra giocatori e abitanti d'Italia quindi siamo i più praticanti di calcio a 5 tra l'altro una caratteristica che ha sempre connotato l'alma Juventus è di aver schierato giocatori autotoni tutti i giocatori del posto sempre è stata una scelta poi abbiamo avuto un paio di ragazzi di Cagli qualcuno di Pesaro però erano amici che venivano a giocare con noi ecco insomma la matrice era fortemente indigene è sempre stata e lo è ancora solamente sì una scesa che ha portato fino al campionato di Serie B e ai derby memorabili con Palextra diciamo dopo i primi anni che abbiamo disputato la C siamo saliti sempre di livello avevamo una base buona e siamo sempre saliti di livello dopodiché siamo per due anni di seguito abbiamo sfiorato la B siamo arrivati in B abbiamo fatto dei bei campionati e i nostri avversari erano i ragazzi del palestra di Andrea Faravini che è stato nostro ospite ha fatto riferimento a queste sfide epiche e lì è nato il vero Calcio 5 Fanese che ha coinvolto tutta la città perché Fano e lo dicevamo anche con Faravini è stato punto di riferimento no è una capitale nostra della regione del Calcio 5 presenza in Serie B caratterizzata da quali risultati tra l'altro il palmarès dell'Alma Juventus è piuttosto ricco e si estende anche all'ambito giovanile allora noi abbiamo fatto uno spareggio per la Serie A abbiamo perso con Bergamo è andata male è finita lì poi a livello abbiamo fatto dieci anni di B mi sembra dodici quattordici di C1 abbiamo fatto un po' di C2 e un anno di D questo è il nostro tragitto e a livello giovanile che è l'attività più grossa che abbiamo sempre prodotto abbiamo vinto tutti i campionati regionali con giovanissimi allievi e juniores con l'Under 21 siamo arrivati un paio di volte agli ottavi di finale per lo scudetto e sempre a livello giovanile col CSI abbiamo vinto due scudetti con juniores e un junior erano due categorie quindi di attività l'abbiamo fatta insomma non vi lamentate come palmarès considera che in prima squadra hanno giocato 700 quasi tutti i fanesi insomma e tra l'altro avete sviluppato questa attività giovanile in un contesto quello dell'epoca in cui per il calcio a 5 non era così facile farsi largo no noi dovevamo sempre andare a giocare fuori la trasferta corta e rancona se no spesso e volentieri si andava ad Ascoli e abbiamo potuto iniziare grazie alla generosità di del maestro e presidente del circolo tennis pianosi che ci ha ospitato nel primo pomeriggio in una vecchia struttura che c'era lì che poi dopo è stata abbattuta e lì abbiamo potuto iniziare a fare il nostro settore giovanile un calcio a 5 che ha sempre avuto problemi legati agli impianti anche perché il palazzetto dello sport in cui inizialmente sperimentavate questa nuova disciplina non ha esattamente le misure consone al calcio a 5 ed è uno dei tanti limiti che si trascina detto questo il problema dell'impiantistica si è riproposto nel corso degli anni un intervento significativo è stato fatto con l'inaugurazione della palestra a Biagioni che per anni vi ha ospitato credo allora la palestra a Biagioni era lunga 28 metri e quella volta l'assessore Falcioni andò a Roma e trovò con Italia 90 dei soldi per poterla fare diventare un campo di gioco di 32 metri ma negli anni anche se vogliamo guardare adesso come adesso la palestra di Cucurano che è stata fatta per la scuola nonostante sollecitata facevo parte della consulta dello sport a fare delle misure più ampie perché poi per raccogliere le più diverse discipline tutte le discipline non siamo riusciti mai ad ottenere un risultato poi c'è stato l'esploit del pallone della trave del ciclo tennis con Andrea Frabini e il nostro Andrea Giuliani che si sono andati da fare per realizzare il parquet per creare un punto di riferimento per il calcio a 5 che comunque dobbiamo condividere con la pallavolo che ha 40.000 campi con il patinaggio e compagnia e quella comunque adesso è la casa del calcio a 5 fanese a tutti gli effetti sì anche se l'acqua quando piove va sotto perché si può problemi pure lì sì abbiamo grossi problemi veniamo all'attualità l'Alma di Juventus Fano sta partecipando credo con profitto al campionato di Serie C terza in classifica come è stata strutturata questa squadra ancora una volta nel segno dei calciatori indigeni e quali prospettive si pone per questa stagione allora non abbiamo fatto calcoli di serie B o cose del genere se capita non buttiamo via niente abbiamo solo pensato di fare un campionato decoroso ci stiamo riuscendo e abbiamo la miglior difesa e di qualche giorno fa l'ingresso in squadra di Alberto Pedinelli nostro antico avversario quando c'erano i derby dalla Juniors a prima squadra col Palestra squadra allenata da Luca Scapecchi se non vado errato e com'è la composizione? Luca ha fatto tutta la trafila giovanile fino alla prima squadra poi è partito con l'università finito tornato e si è messo a disposizione ha cominciato a fare il secondo e poi sono 5-6 anni che fa l'attore della prima squadra giovani e meno giovani in questa squadra? allora i più vecchi diciamo tra virgolette sono 32 anni che comunque sono arrivati da noi che erano 15 anni diversi e e dietro abbiamo tutta una una serie di sempre dei prodotti del nostro settore giovanile 99-2000 e compagnia perché nel frattempo avete ridato impulso al settore giovanile dopo un momento di pausa abbiamo ricominciato adesso perché dopo la seconda volta che siamo andati in bici siamo stati 5 anni volevo tirare il freno e ho rinunciato abbiamo rinunciato a fare la serie B per una questione economica e per una questione anche di impegni perché vuol dire allenarsi minimo 3 volte vuol dire fare trasferte impegnative e poi economicamente è un salasso si rende l'idea discreto discreto salasso e al che ragazzi ho detto voi siete liberi da dove volete io mi ero messo un pochettino il cuore in pace con un grosso dispiacere e quella volta Matteo Pirangeli insieme a tutti i compagni parlo di ragazzi che erano richiesti da tutte le squadre noi vogliamo giocare nell'alma che abbiamo ricominciato dalla D siamo ritornati in C1 e due anni con ottimi risultati insomma è stata aperta poi una parentesi qualche anno fa in epoca pre-covid anche sul fronte del beach soccer perché questa smania pionieristica si è in qualche modo tradotta anche su questo versante avete creato questa squadra anche in quel caso stessa connotazione tutti i giocatori del posto che si sperimentavano appunto sulla sabbia che non era in teoria il loro habitat ideale e anche lì qualche soddisfazione ve la siete toglie sì dopo il primo impatto che è stato un po' traumatico la prima partita abbiamo giocato a Vasto contro il Milan e c'erano un sacco di giocatori che giravano in nazionale più tutti gli stranieri noi un gruppo di ragazzi fanesi insieme a Capitan D'Aluisio questa è la foto lo consideriamo un fanese abbiamo affrontato questa partita stava 2-1 alla fine del secondo tempo quindi abbiamo perso 5-1 con l'onore delle armi così come vi siete fatti onore anche nelle edizioni successive quanti campionati complessivamente avete disputato? mi sembra 6 abbiamo fatto un paio di campionati uno particolarmente buono dopodiché anche su quel fronte credo occorrano risorse occorra tempo e quindi l'esperienza in qualche modo è tramontata no non è stato nei tempi e nelle risorse la prima richiesta era un pezzettino di spiaggia dove poterci allenare dedicata a noi e non c'è stato verso di trovare chi ci dava una mano e tantomeno è stato possibile credo creare un impianto ad hoc no però per esempio ti dico che a San Benedetto hanno il loro stadio San Benedetto non è distante dico sul territorio fanese non c'è stata la possibilità neppure appunto di mettere in piedi un impianto specifico e diventa un punto di riferimento per un sacco di attività che poi una volta può essere BISOC una volta è il volley cioè hai nelle mani anche un un'arena per gli sport di spiaggia sì e lì siamo nati da un'idea mia tutti mi davano del matto l'unico che mi ha che mi ha sostenuto è stato Massimiliano Barbador e in due abbiamo portato avanti questa questa avventura in giro per l'Italia parliamo di impianti approfondiamo anzi il tema degli impianti perché l'Alma Juventus si gioca le sue partite al circolo tennis ma svolge la sua attività all'Alma Park di che cosa parliamo e anche in questo caso ci sono dei progetti sì allora abbiamo noi come Alma gestiamo questo impianto che oltre al campo di calcetto che è l'ex playtime per dare un punto di riferimento agli ascoltatori e agli spettatori per capirci e questo è l'immagine vediamo il padel che è il gioco più richiesto del momento noi organizziamo tornei facciamo un po' di attività abbiamo in mente di organizzare una squadra che faccia i campionati e poi abbiamo due campi da tennis con il maestro Terzini che a Fano fa parecchie attività parecchi numeri con i ragazzi e poi abbiamo il nostro campo di calcio 5 oggi in erva sintetica il nostro sogno sarebbe quello di riuscire a coprirlo e giocare sulla gomma in casa nel nostro impianto quindi questo è il sogno per il futuro sì dopo basta ho finito devo dire che con i sogni ci sentiamo a posto di qui anche la denominazione di polisportiva perché non è più solo calcio 5 abbiamo fatto tennis tavolo faremo anche altre cose ma già facciamo tuttora ecco qui vediamo la panoramica una struttura quella dell'ex play time or alma park che ha i suoi anni e che deve essere adeguata mi dicevi anche sul fronte degli spogliatoi sì adesso cercheremo di rinnovare anche quel dato dolente insomma però abbiamo un bel impianto siamo seguiti organizziamo tutta l'attività nostra col CSI di Fano sia a livello di padel che di calcio 5 facciamo un campionato invernale per amatori un paio due o tre tornei estivi facciamo tutta la nostra attività su un campo tra l'altro meraviglioso complimenti per questi primi 40 anni dell'Alma Juventus calcio a 5 in attesa dei secondi grazie a Giampiero Patrignani noi ci fermiamo per qualche istante un compleanno tira l'altro perché al traguardo dei 40 anni è arrivata in queste settimane anche la fortitudo Sant'Orso di cui ospitiamo questa sera il vicepresidente Marco Pagnetti buonasera bentornato buonasera e Matteo Moschella che è responsabile dell'attività giovanile buonasera 40 anni non sono pochi proviamo Pagnetti un po' a riassumerli beh sono sono veramente tanti no? una vita beh la fortitudo è nata nell'83 grazie a un'idea di Eusebio il povero Eusebio Luciano che poi creò il Sant'Orso calcio è nata nella parrocchia come dicevo e poi da lì si sono creati o era solo un creare delle attività correlate alla parrocchia come oratori diciamo in quel tempo si stavano formando anche gli oratori e quant'altro qui nella zona e Eusebio poi ebbe la brillante idea di collegarsi anche al centro sportivo italiano che già ormai da anni anni e anni era collegato e da lì è nata una collaborazione col centro sportivo dove tanti ragazzi del quartiere anche magari futuri campioni diciamo anche locali hanno potuto calcare prima di tutto i campi parrocchiali per poi per poi andare avanti negli anni poi ci sono la fortitudo ha cambiato i vari presidenti perché comunque è una realtà amatoriale comunque non è una vera propria società federale e quindi negli anni sono cambiati diversi presidenti fino ad arrivare all'attuale presidente che è Diego Casellini quindi la nascita nell'alveo di quella dimensione oratoriale che peraltro è anche alla base dell'attività del centro sportivo sì esatto è stata sempre un'attività oratoriale infatti si aveva anche la fortuna come fortitudo di avere proprio un campo parrocchiale dietro alla chiesa di Santa Maria Goretti dove poi la stessa società gestiva il campo e permetteva appunto l'attività o da sola quindi con la parrocchia oppure in collaborazione con il centro sportivo o altre realtà territoriali non a caso nacquero i primi tornei giovanili parrocchiali dove era sotto la regia del centro sportivo uno dei tanti campi dove si giocava e dove la gente si sporcava si immaltava tutto quanto era proprio il campo della parrocchia in via Filippo Montesi solo calcio o già allora nella prima fase anche altre discipline? no che ricordi io e che abbia letto e che mi hanno raccontato era prevalentemente il calcio qualcosa a spot un po' di pallavolo ma prevalentemente era il calcio perché comunque anche Sant'Urso ha una storicità con il discorso del calcio appunto una scuola calcio importante qui sul territorio anche la denominazione Fortitudo si riconnette in qualche modo ad un'epoca in cui le squadre che esprimevano una parte di questo territorio si richiamavano la lingua latina faccio l'esempio di Fulgor piuttosto che di Hardor sempre legate a certi quartieri si infatti infatti esisteva la Fulgor in quei tempi c'era la Fulgor che era sempre della parrocchia di San Cristoforo quindi era un po' nato così esatto c'era quella dinamica lì lo sport amatoriale è nato un po' come dicevi te su questa dinamica qua negli anni come avete in qualche modo rimodellato questa attività come l'avete calibrata come si è consolidato il rapporto con il centro sportivo ma guarda l'abbiamo consolidata nel fatto che tanti ragazzi che collaboravano con il centro sportivo a partire da appunto Eusebi Silvia Sebastianelli me stesso Diego Matteo eccetera Diego Casalini che è l'attuale presidente che è l'attuale presidente abbiamo iniziato ad avere un certo tipo di rapporto abbastanza stretto con il centro sportivo e questa cosa ha permesso alla fortitudo di rimodellarsi anche sotto altri sport per dirti abbiamo organizzato per diversi anni io e Diego in particolar modo quando poi abbiamo preso anche un po' in mano le redini un po' della storicità della fortitudo abbiamo organizzato dei tornei giovanili un po' lì in parrocchia un po' al Don Orione e facevamo tornei di pallavolo e in più soprattutto cercavamo comunque di portare avanti quell'ideologia che sempre con Don Luigi e con i vari parrucci che ci sono stati successivamente era quello di coinvolgere i ragazzi di quartiere e dargli oltre a tutte le attività che potevano esserci di poter utilizzare la parrocchia anche per fare sport e quindi a fortitudo è stato questo non a caso nell'anno in cui hanno Don Matteo insieme al Don Giorgio mi sfuggiva il nome hanno rivisto un po' la struttura della parrocchia a livello sportivo noi come fortitudo abbiamo dato il nostro contributo nell'organizzazione e nella pulizia un po' del campo sportivo adesso negli ultimi anni la giovane Sant'Orso aveva bisogno degli spazi noi ovviamente essendo una piccola realtà che comunque l'attività sua prevalentemente la fa un po' tra virgolette dappertutto dove ci sono un po' i campi dove ci permettono di fare questa attività abbiamo ceduto questa cosa alla giovane Sant'Orso sempre forte quindi il legame con la parrocchia in questo senso credo naturale anche aprirsi all'impegno verso il sociale e anche a favore di soggetti cosiddetti fragili sì infatti come dicevo prima nei tornei che noi organizzavamo cercavamo di coinvolgere tanti ragazzi di quartiere nel quartiere di Sant'Orso che è molto popoloso ci sono anche delle piccole fragilità e queste piccole fragilità ci venivano a chiedere di giocare a pallone di giocare a pallone o pallavolo o ping pong facciamo anche dei tornei di ping pong adesso che mi torno in mente il bigliardino si coinvolgevano questi ragazzi magari non si faceva pagare l'iscrizione oppure grazie anche dei contributi di sponsor che ringrazio pubblicamente siamo sempre riusciti ad ottenere anche un qualcosina in più per potergli anche regalare magari una divisa una tuta eccetera negli anni noi abbiamo sempre cercato di portare del sociale non a caso la Fortitudo adesso ha una squadra di calcio 8 che partecipi al campionato di calcio 8 dove all'interno ci sono ragazzi del quartiere di Sant'Orso che vivono proprio nei palazzoni popolari del quartiere e veniamo ai giorni nostri ad un'attività rivolta al settore giovanile che sia in qualche modo anche specializzata parliamo in particolare di Fortitudo Training e Matteo Moschella ci può aiutare a capire di cosa si tratta sì allora Fortitudo Training è un progetto nato anche grazie al nostro percorso di studi quindi noi veniamo tutti dalle scienze motorie comunque tutto ciò che riguarda il movimento la coordinazione i schemi motori di base e insomma noi in poche parole abbiamo pensato anche grazie alle nostre esperienze vissute nel mondo scolastico nel mondo dei settori giovanili appunto visto che comunque il lavoro in questo campo è davvero tanto e a volte non sempre si riesce a lavorare su tutto abbiamo pensato di specializzarsi appunto in questo ambito e offrire un servizio aperto a tutti dove appunto noi curiamo proprio la parte motoria coordinativa di questi giovani atleti ma non solo perché abbiamo comunque avuto anche la possibilità di lavorare con bambini ragazzi che non frequentavano attività sportiva abbiamo fatto partire appunto ecco si vedono nelle immagini un corso con i bambini della scuola primaria di Bellocchi che non frequentavano attività sportiva appunto erano tutti i pomeriggi a casa abbiamo aperto questo corso apposta per loro abbiamo avuto anche un buon riscontro perché da zero che eravamo siamo arrivati ad avere 20 iscritti e siamo stati molto contenti quindi ecco appunto abbiamo avuto anche la possibilità di lavorare con il settore giovanile per esempio del CSI Delfino dove io comunque sono anche allenatore e abbiamo avuto la possibilità di collaborare con il Fossombrone Calcio che quest'anno sta affrontando un campionato di serie D quindi siamo molto soddisfatti del percorso che c'è stato e da zero siamo molto ecco contenti ti porto questa testimonianza che è relativa alle metropoli ma magari qualcosa del genere succede anche nei piccoli centri nelle metropoli con questi bambini che non hanno la possibilità di uscire perché concretamente in quelle realtà si fa fatica vengono individuati da parte degli addetti ai lavori grossi problemi di coordinazione grossi problemi nello sviluppare l'attività motore anche di base semplicemente la corsa piuttosto che andare in bicicletta incontrate queste difficoltà anche con i bambini che vivono in questa realtà beh sì sicuramente rispetto al passato dove comunque i ragazzi giocavano per strada e sviluppavano appunto queste capacità motori di base per strada ad oggi la vita frenetica di tutti i giorni comunque non permette questo tipo di attività ecco quindi e anche la propensione magari a restarsene chiusi in casa una volta si diceva vedere la tv in questo caso altri tipi di schermo esatto tra i videogiochi tablet comunque cellulari si tende molto a rimanere più dentro casa che magari andare al parco a giocare con gli amici ecco e quindi si fa fatica con questi soggetti a far passare le nozioni giuste gli elementi che servono poi ad acquisire una certa disinvoltura ci vuole sicuramente più lavoro rispetto a un giovane che frequenta attività sportiva che possa avere magari delle difficoltà però le acquisisce sicuramente prima rispetto a uno che è più sedentario e tende più a stare dentro casa ecco resta comunque significativa la propensione dei bambini delle bambine a dedicarsi allo sport sì quello assolutamente comunque lo sport alla fine è benessere gioia socialità gruppo una vocazione naturale esatto sì 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 all'interno di questo fortitudo training anche un'attività volta al recupero degli infortunati anche in questo caso precisiamo sì allora noi per esempio abbiamo avuto anche casi abbiamo avuto modo anche di lavorare individualmente con bambini con problematiche particolari come possono essere delle delle paralisi delle disprasie comunque abbastanza importanti ecco quindi abbiamo lavorato anche sotto questo punto di vista in un rapporto proprio di uno a uno un istruttore un bambino dove le famiglie ecco ci affidavano questi casi questi casi particolari invece proprio sul fronte del recupero di chi ha sofferto di un trauma piuttosto che appunto di un infortunio che ne ha interrotto per un certo periodo la pratica sportiva sì noi abbiamo avuto insomma siamo stati chiamati anche al recupero di infortuni di bambini che magari appunto nei settori giovanili durante le partite possono avere le loro le loro distorsioni come come ecco questi piccoli infortuni noi andiamo a operare per cercare di far rientrare il prima possibile in campo i giovani ecco tu sei parte in causa ma credo che si possa dire senza tema di smentita che anche nello sport di base è sempre più forte l'esigenza di avvalersi di figure altamente specializzate assolutamente sì nulla è casuale ecco comunque questa è la nostra filosofia cerchiamo sempre di essere specifici e comunque la specificità nell'allenamento è sempre una cosa che da qui in avanti sarà molto più importante rispetto al passato perché la spontaneità è importante il volontariato non ne parliamo neppure però è chiaro che la risposta che si deve dare Pagnetti a questa richiesta di sport deve essere una risposta adeguata all'altezza dei tempi che viviamo assolutamente sì come diceva Malaccio un po' il discorso di Matteo anche se nelle metropolitane come dicevi anche tu c'è proprio questa grossa esigenza la vediamo anche a livello locale perché comunque è vero che una città come Fano dà tanto di sport dà tante proposte eccetera però i bambini i ragazzi non sono più come una volta che avevano voglia di andare in strada giocare divertirsi adesso attira più il videogames il cellulare eccetera quindi questa idea che Matteo insieme a Camilloni ci ha voluto portare proporre sia a me che a Diego e tutto il direttivo l'abbiamo presa subito perché comunque anche questo è una parte di volontariato come diceva Matteo molte attività noi siamo riusciti a farla anche grazie a dei progetti collegati un po' al centro sportivo e anche grazie ribadisco a dei contributi che durante l'anno riusciamo ad ottenere grazie a quei piccoli sponsor che noi abbiamo e che ci danno una grossa mano quindi secondo me è fondamentale cioè noi diciamo sempre che lo sport è fondamentale perché ti permette come diceva Matteo prima di tutto di allacciare dei rapporti un ragazzo timido ti permette con la perseveranza di aprirsi di diventare un ragazzo aperto l'impulso alla socialità al di là della timidezza perché molti restano veramente chiusi all'interno della loro cameretta assolutamente sì e quindi ti permette di aprire e quindi noi cerchiamo sempre di dare quell'input in più che magari in qualche altro ambiente non c'è quindi con Matteo ci confrontiamo spesso quindi cerchiamo sempre quelle piccole cose di permettere di poter fare quel qualcosa in più di dare quel valore aggiunto rispetto a tante altre realtà che fanno bene il loro lavoro però magari ecco non sono così appassionati come lo è Matteo come lo è Camelloni che fanno veramente un grandissimo lavoro apriamo una finestra come sempre in chiusura sul futuro qualche idea particolare qualche progetto che sta covando e che vorreste in qualche modo realizzare concretamente di qui a qualche mese qualche anno probabile qualche anno probabile però l'idea con Matteo che si parla ormai da diverso tempo con Diego è quella di dare ancora più spazio alle tante idee alle tante attività che noi facciamo anche quella di creare proprio un settore giovanile che non deve essere assolutamente concorrenziale a tutto ciò che c'è intorno perché noi come Fortitudo lo ribadisco siamo una piccola realtà che ha sempre fatto qualcosa qualcosa uguale agli altri ma diversificato e non siamo concorrenziali agli altri quindi chi vuole si vuole divertire e vuole ambire a essere il campione tra virgolette proprio nello sport va da qualche altra parte da noi vieni impari a giocare magari a pallone in questo caso pallavolo magari in futuro però ti permettiamo di coordinarti che è una cosa fondamentale perché si vedono tanti ragazzi tanti bambini che giocano a pallone dove sono purtroppo scoordinati tra virgolette lo stesso allenatore non ha il tempo di stare dietro queste cose perché deve preparare le varie partite le varie allenamenti quindi noi siamo qui quindi come ha detto Matteo collaboriamo anche con la Corna collaboriamo con il CSI Delfino che ringrazio perché se la Fortitudo si è riuscita in questi anni ad andare avanti a progettare a fare è anche merito di tante realtà che hanno capito quello che noi vogliamo portare e vogliamo trasmettere e quindi la nostra idea è quella di andare avanti con tutte le attività che facciamo tornei squadra di calcio 8 proveremo a rifare anche una squadra di calcio 5 che fino all'anno scorso avevamo però l'idea nostra è quella di provare con i ragazzi tanti ragazzi che magari non hanno quello sbocco che possono avere altri e allora ti diamo la possibilità di continuare a giocare a pallone grazie a Marco Pagnetti vicepresidente della Fortitudo Sant'Orsa e a Matteo Moschella responsabile del settore giovanile grazie naturalmente come sempre anche a voi vi attendiamo la settimana prossima grazie a tutti